Nel fitto del bosco, perché nel fitto? Perché ai lati dove ci si passa bene li hanno spaccati tutti, ho trovato questa meravigliosa ceppa ripiena di almillaria mellea. Ci sono di tutte le misure, almillaria mellea ha anche chiodino, ci sono adulte, ci sono piccole, ci sono passate, ormai vi ho spiegato bene come si individua l'almillaria mellea. Ottimo fungo, caratterizzato vedete qui sotto dal giallo del gambo, questi sono piccoli, c'è una, quando sono piccoli nel capo solo uno, per farvelo vedere, vedrete c'è una membrana che copre le lamelle, anche se è gialla. Ottimo fungo, io lo sto consigliando a tutti e quasi tutti non sapevano neppure che esistesse questa prelibatezza della natura. Tutti corrono ai porcini, non le trovano, vanno via senza nulla e siccome la colpa è del fungo che non si fa trovare, spaccano tutto ciò che trovano, questi trogloditi. Cioè, emana un profumo che vorrei trasmettere via video, ma non è ancora possibile, è una cosa veramente bella vedersi. Stop!